Crutch Bindset. Benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby. Allora, lunedì, lunedì, sei nazioni, inizia la settimana della grande partita. Diciamo che quest'anno le partite che aspettavamo di più, poi abbiamo avuto delle bellissime sorprese, ad esempio la vittoria con l'Australia. Però le partite dopo il sei nazioni dell'anno scorso che aspettavamo di più erano probabilmente quella con la Georgia, sappiamo come è andata a finire, e poi questo sei nazioni e in particolare la partita che veniva messa nel mirino era la partita col Galles. Quindi, grande, grande attesa, ecco, grande hype per questa partita. Vogliamo vedere confermati tutti i recenti progressi che ci ha fatto vedere la squadra di Kieran Cole. E lunedì sono uscite le convocazioni della settimana, del gruppo della settimana, per la partita appunto col Galles, e allora voglio fare un gioco. Voglio provare a indovinare i 23, motiverò anche un po' le mie scelte, provare a indovinare i 23, e poi vi lancio una sfida. Vediamo chi nella community riesce a prenderne 23 su 23, o almeno avvicinarsi il più possibile. Faccio un gioco, domani, durante la live con Otto, a chi avrà messo nei commenti di questo video i... ah no, perché domani non lo posso ancora sapere, domani non lo posso ancora sapere. Allora, la settimana prossima, durante la live, a tutti quelli che, diciamo, avete tempo oggi e domani, perché se no poi ci avviciniamo troppo, avete delle notizie troppo fresche. Tra oggi e domani, a chi avrà indovinato più giocatori di quelli poi realmente convocati da Kieran Cole per la partita col Galles, estrarò la possibilità di scegliere voi, il vincitore, un approfondimento di un video che io poi mi metterò a fare con cura, impegno e calma. Quindi, mettete nei commenti il vostro 23, prima del vostro 23 io vado col mio e quindi vi dico un po' prima chi sono i convocati dell'Italia e poi quelli che sarebbero i miei 23. Allora, diciamo che oggi nelle convocazioni ci sono state un paio di sorprese, niente di sconvolgente, niente di sconvolgente. Andiamo a vederlo. Piloni. I piloni sono i sei che sono stati nel gruppo dei sei nazioni per tutto il percorso fino ad adesso. C'è Carelli, Ferrari, Fischetti. Fischetti che tra l'altro ieri ha giocato con i London Irish segnando una meta. Riccioni, Rizzoli, Zani. Quindi, insomma, tre sinistri, tre destri. Dopo andiamo a vedere chi giocherà secondo me. Tallonatori, anche, idem con patate. Sono gli stessi che hanno fatto parte del gruppo dall'inizio. Bigi, Manfredi, Nicotera. Seconde linee. Ecco, nelle seconde linee c'è stata a cammino in corso l'integrazione di Iachizzi. C'è stata la convocazione di Favretto. C'è stato il ritorno dall'infortunio di Zambonin. Gli altri due sono i due titolari. Sono Nicolo Cannone e Federico Ruzza. Qui, invece, abbiamo perso, ad esempio, a inizio percorso Fuser. Terze linee. Le terze linee sono cinque. Crowley ha optato per questa soluzione, di non chiamare una sesta terza linea. Sono fondamentalmente quelli che ha a disposizione. Cannone, Lamaro, Negri, Pettinelli, Zuliani. Purtroppo, qua, abbiamo perso per infortunio Jake Polledri. Mediani di mischia. Qui c'è stata, la settimana scorsa, la vera grande sorpresa. È stato convocato Martin Page-Relo. Mediano di mischia del Tolosa. Uno delle varie opzioni alternative a Antoine Dupont del Tolosa. Viene convocato. È uscita in settimana anche un po' la voce che non sembrerebbe proprio chiaro il futuro di Manfredi Albanese, che starebbe pensando a cosa fare appunto del suo futuro, non solo sotto l'aspetto reggistico e quindi forse Kieran Crowley vuole lavorare un po' sulla profondità, no? Per essere sicuro poi di avere al Mondiale tre mediani di mischia solidi, di livello da portarsi via per l'avventura francese. E quindi è stato convocato Martin Page-Relo. Mediani di apertura, si sapeva. Per fortuna abbiamo Paolo Garbisi, Tommy Allan, che sarà importantissimo anche questa settimana. Forse adesso lo andiamo a vedere in un ruolo che non è prettamente il suo. E poi lo Iutiti, Giacomo D'Aretto, che ha giocato un pezzo di partita con il Benetton questo fine settimana. Centri, qui c'è una sorpresa. Rientra in gruppo Marco Zanon, 15 caps per lui. Perché? Perché deve uscire Luchin, che si è preso una botta nell'ultima partita delle zebre. Ho letto di una concussion, quindi giustamente viene fatto riposare e viene portato dentro Marco Zanon. Ecco, qui forse io a pelle, vista la prestazione di Pippo Drago, ci avrei fatto un pensierino. Drago ha fatto una partita veramente molto molto bella col Benetton, è partito lui titolare, si è andato più su una soluzione conosciuta. Zanon ha già giocato più volte in periodo Crowley, 15 caps per lui. Insomma, si è andato per una soluzione un po' meno rischiosa, ecco, un po' meno aggressiva. Agli estremi, purtroppo qui la lista è molto molto scarna. Perché? Perché oggi abbiamo avuto la conferma che Ange Capuozzo si parla di dolore, non dovrebbero esserci fratture, però insomma si parla di sei nazioni finito per Ange Capuozzo. Oggi è stata data la conferma di quello che già fondamentalmente ci aveva anticipato la stampa francese e lo staff medico di Tolosa. Capuozzo non può finire il sei nazioni con il gruppo dell'Italia e una mancanza dal peso specifico enorme, molto molto grande. Restano le alternative. Pier Bruno, Padovani. È interessante questa lista per come vengono messi giù, perché agli estremi, anche senza avere opzioni di riserva, dovrebbero essere tre. Invece ne abbiamo solamente due. Questo già ci fa capire che non abbiamo molta scelta da quel punto di vista lì. A questi due probabilmente verrà aggiunto un adattato. Io adesso ve lo dico durante la formazione. Allora, andiamo a vedere quella che per me potrebbe essere la formazione. Secondo me Kieran Crowley in prima linea, beh insomma ci sono dei ruoli che sono abbastanza scontati, tranne cose strane che potrebbero accadere in settimana, ma insomma al numero uno quasi sicuramente andremo con Danilo Fischetti, al numero due quasi sicuramente andremo con Giacomo Nicotera. Ecco, uno dei dubbi è il numero tre. Il numero tre potrebbe, si potrebbe andare con la soluzione che fino a qualche mese fa tutti avremmo pensato la migliore, ossia con Marco Riccioni, pilone destro dei Saracens dal primo minuto, però attenzione perché Ferrari sta facendo delle ottime prestazioni e tutto l'anno che fa delle ottime prestazioni, io credo che qui si andrà con una soluzione simile a quella dell'ultima partita con l'Irlanda, ossia un tempo a testa. Ferrari aveva fatto, se non sbaglio, 45 minuti, Riccioni era entrato per farne altri 35, utilizzando l'energia che può portare un giocatore forse più mobile in mezzo al campo, come Riccioni, da impact player, da finisher, si potrebbe andare per la stessa soluzione. Anzi, questa è proprio la mia scommessa. Secondo me, titolare andrà di nuovo Simone Ferrari. Tallonatori, abbiamo detto Nicotera, in panchina, io credo che non ci si scosterà anche qui da una soluzione più sperimentata come Bigi, Manfredi non ha ancora il primo cap e ancora col gruppo probabilmente per imparare e per giocarsi poi le sue carte in vista di un mondiale dove saremo ancora alla ricerca probabilmente del terzo tallonatore. Sperando appunto nel rientro a fil proprio di rasoio con le date mondiali di un giocatore importantissimo come Gianmarco Lucchesi, Nicotera sia assolutamente conquistato a suon di prestazioni il suo posto, ci sarà un posto libero per il mondiale questo posto. Vedendo che Faiva non sta giocando con gli Harry Kane, immagino che se lo giocheranno proprio Bigi e Manfredi. Seconde linee, seconde linee, si andrà 99% con Ruzza cannone e poi si apre il dubbio della seconda linea di riserva, la seconda linea che verrà portato in panchina. Per adesso è stato utilizzato tre volte Iachizzi, ha fatto delle prestazioni onestamente senza eccessivi picchi positivi ma anche senza nessuna macchia, sono state tre prestazioni di basso minutaggio dove ha fatto il suo, dove è entrato e ha fatto il suo dovere e qui le alternative potrebbero essere diverse. Si potrebbe andare per un Favretto che ha lavorato molto molto bene in Benetton questo fine settimana seppur da una posizione diversa, giocando come un numero otto, avendo quindi in Favretto anche quella d'utilità. Ecco secondo me Favretto potrebbe essere un'alternativa nel momento in cui si decidesse di andare con un 5 più 3. Favretto ti porta una seconda linea che ti porta quella d'utilità che ti può permettere di rischiare un po' di più magari andando con un 5 più 3, io non credo. Potrebbe essere con la Scozia, io non credo che col Galles Kieran Crowley si scosterà dal 6 più 2 e allora credo che si andrà di nuovo con Iachizzi. Zambonin sarebbe un'alternativa soprattutto importante in rimessa laterale, però avendo delle terze linee che comunque la possono gestire molto bene anche in mancanza di Ruzza la rimessa laterale, io credo che alla fine si andrà con Cannone, Ruzza, Iachizzi. Cannone, Ruzza in campo e Iachizzi dalla panchina. Terze linee, anche visto che è stato rilasciato a Treviso nel fine settimana a Pettinelli, il dubbio qua potrebbe essere al numero 6 tra Negri e Zuliani. Interessante, comunque dando per scontato il numero 7 Michele Lamaro, l'unico dubbio potrebbe essere sulla sua tenuta fisica, ma giravano voci che stia bene, sta stringendo i denti il capitano, perché sono già due partite dove finisce su una gamba sola, però io credo che in una partita come questa farà di tutto per esserci e ci sarà. Quindi Michele Lamaro al numero 7, Lorenzo Cannone non si discute, non si discute al numero 8, soprattutto non essendoci poi alla FI che ha avuto una ricaduta dell'infortunio, anche qui onestamente non ho dati precisi, quindi non so se sia stata una ricaduta dello stesso infortunio. Comunque è tornato in Benetton e poi la settimana dopo era già di nuovo in lista indisponibile. Quindi qua si apre il dubbio, Zuliani, Negri. Se Zuliani è in forma, chi sarà il numero 6? Negri sta performando benissimo, Negri sta performando benissimo, Zuliani potrebbe essere forse più interessante vederlo da impact player, anche se poi Zuliani quando gli tocca entrare fa sempre delle ottime prestazioni, ci piacerebbe vederlo un po' di più anche dall'inizio. Bello avere questi dubbi, io vado comunque per Negri, Lamaro, Cannone. Attenzione, questa è quella che io penso che metterà Crowley, non per forza quella che metterei io, a pensarci bene in questo caso è anche quella che metterei io. Negri, Lamaro, Cannone e in panchina entrambi, ossia io andrei con il 6 più 2 e quindi mi porterei in panchina sia Zuliani che Petinelli. Mediani di mischia. Allora, per me Varney è secondo me il dubbio a mediano di mischia in panchina potrebbe essere Fusco Garbisi. Io non credo, non credo onestamente che Page Relot venga considerato come un'opzione nella prima partita, credo che la settimana di Page Relot sia stata una settimana da quadernino, carta e penne in mano, a imparare il più possibile, a provare a entrare, a capire il sistema di gioco di Crowley. Ecco, con la Scozia magari sì, perché probabilmente se Crowley ha chiamato Page Relot è perché lo vuole comunque valutare prima del Mondiale. Ci sono certo le partite di warm-up, immagino che gliene faranno fare una addirittura da titolare per vedere quanto, però magari Crowley potrebbe dargli già un assaggio nella partita con la Scozia. Vediamo, questa partita io non credo poco, non credo proprio. Resta il dubbio Fusco Garbisi. Fusco ne ha fatte due, Fusco forse sia appunto per questa sua capacità di coprire più posizioni, sia perché dà l'impressione di essere probabilmente più rapido nel punto d'incontro e leggermente più imprevedibile rispetto ad Alessandro Garbisi, potrebbe essere una soluzione che piace di più a Crowley. Io ho l'idea che se per caso non avessimo a disposizione, nella mente di Crowley come funziona con i mediani di mischia, io ho quest'idea qui, se per caso non fosse disponibile per una partita Varney, credo che andrebbe più Garbisi a fare il 9 dal primo minuto rispetto a Fusco. Però Fusco, secondo me, parte davanti a Garbisi come impact player. Ditemi voi cosa ne pensate. Quindi, in questo caso, se fosse così, Varney-Fusco. Mediani di apertura. Ovviamente Garbisi, io credo che ci siano pochi dubbi, ci sarebbe qualche soluzione fantasiosa, soprattutto pensando al fatto che non abbiamo a disposizione Capuozzo con, ad esempio, un'Alan apertura a Garbisi primo centro, spostandomi in un cello da qualche parte, ma io non credo. Non credo che ci si andrà a complicare la vita. Anzi, soprattutto, visto l'infortunio di Capuozzo, credo che avremo bisogno più che mai di un estremo con un po' di visione tattica e non avendo tanta alternativa all'ala. Avremo bisogno sia di Allan che di Padovani. Tra i due, ovviamente, Padovani è quello che andrà a fare l'ala e io credo che Allan andrà a fare l'estremo. Quindi, insomma, Garbisi apertura quasi senza discussione. Poi magari mi stupirà Kieran Crowley. Copia di centri. Per me, Menoncello Brex, ci sarebbe il dubbio Morisi, perché Morisi è un giocatore importante, importante nella testa di Crowley. Secondo me sarà lui il ventitresimo, proprio in funzione di questo. Però, Menoncello Brex, bisogna dargli continuità. Anche perché lo stesso Crowley, al di là del fatto che forse oggi è la soluzione migliore per battere il Galles, vorrà capire se sta copia è la copia su cui può scommettere al mondiale. E quindi, questo è il momento di farlo. Cioè, questo è il momento di farlo. Le partite warm-up sono partite dalla tensione assolutamente diversa rispetto a una partita del Six Nations, soprattutto questa, e qua che vanno testate le carte serie. Le scommesse, Pajre Lolo, si può testare anche con il Giappone nelle partite warm-up. Ma Menoncello Brex probabilmente va testata e ritestata in queste partite dove ci si gioca tanto. Agli estremi abbiamo, ripeto, poche opzioni e per me sarà Bruno, Padovani, Allan. Bruno, Padovani, Allan. Qui viene scritto, non considerati per infortunio, interessante, è Jake Polledri, Gianmarco Lucchesi, Leonardo Marin, Sisi. Non viene fatta menzione, mentre nel comunicato se ne parla, di Capuozzo, però probabilmente è una semplice dimenticanza. Così come non si parla, per esempio, di Fuser, che farebbe parte anche lui del gruppo nazionale, e, insomma, è qualche altro. Ad esempio, Lucchin, per Concussion, probabilmente qua quando si parla di infortuni, intendono infortuni seri, anche se, ad esempio, non che non sia serio, ma infortuni che chiedono magari un intervento chirurgico, eccetera, eccetera. Non che sia, secondo me si tratta di una semplice dimenticanza, perché sia Capuozzo che Lucchin entrano sicuramente in questa lista. Non disponibile Montiglione. Bene, questo, insomma, è il mio 23. Lo ripeto. Fischetti, Lucchè... Buonanotte, scusate. Fischetti, Nicotera, Ferrari, Cannone, Ruzza, Negri, Lamaro, Lorenzo Cannone, Varney, Garbisi, Bruno, Menuncello, Brex, Padovani e Allan. Questi sono i miei 15. In panchina, per me andranno Zani, Bigi, Riccioni, Iachizzi, ecco, questo potrebbe essere il nome che mi frega nell'indovinarli tutti e 23. Iachizzi, Pettinelli, Zuliani, Fusco, anche qui vediamo, anche qui vediamo, c'è qualche dubbio, qualcosa che potrei sbagliare. Fusco, Morisi. C'è qualche dubbio. Per esempio, vediamo se indovino il pilone destro, vediamo se indovino la seconda linea di riserva, vediamo se indovino Fusco come ancora seconda opzione. Io credo che lì sulla composizione dei tre quarti, credo che onestamente questa sia l'opzione più sensata. e vediamo se indovino Morisi come ventitresimo, se magari preferisce portarsi un'opzione più duttile come Ciacomo D'Area. Però io credo più Morisi, perché poi le opzioni ci sono in campo. Ossia, se venisse a mancare un'apertura, abbiamo Tommy Allen. A sua volta, se venisse a mancare l'estremo, abbiamo Padovani, che lo può andare a fare, o eventualmente anche Garbisi. Se venisse a mancare un'ala, abbiamo Menuncello che si può spostare. Insomma, nei tre quarti ci sono varie opzioni che possono aggiustare delle eventuali difficoltà. Quindi io credo che andrà col suo uomo di fiducia in panchina, Luca Morisi. Ragazzi, mettete nei commenti tra oggi e domani la vostra formazione e a quelli che la indovineranno tutta estrarremo un vincitore e avrà come premio il poter scegliere un approfondimento di un prossimo mio video. E comunque, al di là del gioco, si fa proprio per divertirsi e per fare discussione. Anzi, non solo mettete la formazione, ditemi che cosa ne pensate, parleremo della partita più nello specifico a partire da domani, live con otto, video di approfondimento, insomma, ci sarà tempo per entrare proprio bene, bene, bene dentro questa partita e poi godercela a pieno, a pieno nel fine settimana, sabato. Fischio finale, un grande, grandissimo bacio, ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.